E' chi? E' chi? E' chi è già? E' chi? Edgard! Non c'è più però, porca madonna! E' il diacolo! E' il diacolo? E' il diacolo? Eh, noi siamo bravi! Terry! 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 Certo! Abbiamo 10 minuti, ragazzi! Ergard! Sì, lo�� ne sono Gior Willie N viewers! Che non partecipiamoci perché qui si ammattano Io sì ti fai la gara No è影inort bam! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.